Buon appetito ragazzi, buon appetito, sono venuto qua per fare il camerino, però è venuto un po' in ritardo, però è che stavo in motorino e pioveva. Lo avete bene come sindaco? No perché se no me lo bruciano, lì ti ho detto che c'è gente che mena, questo non è tanto grosso. Vero che lei è il candidato sindaco? No, 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 assolutamente no. Con Grillo ne avete parlato? Con Grillo no, c'è stato solo un bello scambio di sms, insomma si è congratulato per il lavoro che abbiamo fatto in questi due anni. Dopo le dimissioni? Dopo le dimissioni. Cosa ha scritto sulle dimissioni? Grandi tutti, grandi tutti e in effetti è così. Noi studiamo moltissimo le nostre proposte e stiamo crescendo da quando abbiamo iniziato con maggiore forza a parlare di temi, di reddito di cittadinanza, di legge anticorruzione, di ambiente, di gestione alternativa di rifiuti per Roma. Di raccolta differenziata, di sistemi di mobilità alternativi. Sono le nostre idee, le nostre 5 stelle. Come sono loro?